buongiorno cari amici cari amiche benvenuti bentornati su penelope e le sue carte eccoci di nuovo insieme per un nuovo video settimanale andiamo oggi a vedere che cosa ci prospettano che cosa ci prevedono cosa ci predicono i miei tarocchi per la settimana entrante quella che va dal lunedì 22 a domenica 28 luglio 2019 qua anche il mese di luglio sta avvolgendo al termine il tempo vola veramente vola mi sembra ieri di aver fatto le settimane di maggio giugno aprile siamo già quasi in agosto ma vabbè questo è un altro discorso vi invito naturalmente a concentrarvi oppure se vorrete a scegliere a bomba uno dei tre mazzetti che come vedrete ho già formato scegliete fra il leone la scarpetta e la barchetta ed ascolterete quindi poi la la risposta insomma quella che è la previsione per la vostra settimana va bene io vi ricordo naturalmente dovete scegliere un mazzetto altrimenti insomma avrebbe poco senso formarne tre però io vi invito se vorrete ad ascoltarli tutti perché a volte un capito la scelta magari ve lo dico perché me lo chiedete la scelta è un po titubante un po incerta io avevo pensato l'uno poi però preferivo il tre qual è quello giusto insomma cercate di sceglierne uno naturalmente però ascoltate anche gli altri due perché molte volte anche un piccolo messaggio una piccola cosa potreste trovarla anche in un altro mazzetto ok a volte invece proprio il mazzetto da voi scelto vuoi per l'emozione vuoi per la soggezione vuoi per altri fattori esterni è proprio sbagliato e troverete la risposta più adatta a voi in un altro mazzetto quindi io vi invito comunque a fare sì la vostra scelta sceglierne uno ed andare per quello ma ad ascoltare anche gli altri due perché molte volte la risposta si scela anche in un altro in un altro mazzettino insomma con le carte non dobbiamo essere troppo fiscali troppo stra è questo ed è questo capito naturalmente ciò non significa che la risposta del mazzetto scelto da noi non ci piace troppo brutta ecco allora ne scelgo un altro non funziona così va bene comunque sia come vi dico sempre a parte gli scherzi sempre piedi in terra sempre mi raccomando sempre nella realtà dobbiamo credere a quello che ci dicono una volta visto il riscontro quando vedremo nel come siamo qui in generale in generico ovviamente quando vedremo nella realtà il riscontro quello che è successo allora potremmo dire porca miseria le carte me l'avevano detto perché qui non siamo in un in un consulto privato personale ok in cui chiedo di voi siamo in generale quindi insomma dobbiamo fare anche un pochino la tara un pochino il cappottino addosso a quello che ci rispondono va bene io vi ricordo vi ricordo per chi volesse informazioni per un consulto privato potete scrivermi sia la mia casella di posta le carte di penelope chiocciola gmail.com oppure semplicemente su messenger su facebook mi trovate come le carte di penelope vi ricordo che sono presente anche su instagram se vi piacesse seguirmi anche anche lì mi trovate come penelope le sue carte naturalmente vi invito ad iscrivervi qui al mio canale youtube per essere sempre aggiornate aggiornati sulla pubblicazione dei miei nuovi video io penso credo spero di avervi detto veramente tutto bando alle ciance andiamo a vedere la previsione per settimana prossima allora eccoci qua andiamo a vedere la risposta del nostro leoncino vediamo il leone che risposta facciamo così ecco mi trovo meglio a buttarle giù così vediamo un po il leone che risposta ci ha dato come vedete ho fatto tre tre mazzetti vediamo un po voglio che vediate tutto insieme a me vediamo come posso meglio buttarle giù e questa dove la metto ho buttato troppe alte vediamo un po eccoci la ecco adesso credo siano inquadrate inquadrate tutte vero ok allora andiamo un pochino a vederle tutte allora dunque questa è una settimana un po particolare per voi un po particolare in che senso qui c'è una rivelazione un fulmine a ciel sereno ve lo dico così come va detto che potrebbe arrivare quindi qui c'è proprio tutte le carte mi parlano di un qualcosa di improvviso di improvviso che che accade un qualcosa o che semplicemente vi verrà rivelato da qualcuno o che proprio scoprirete scoprirete voi ok scoprirete voi non credo che vi faccia molto piacere ciò che vedrete a sapere ve lo dico come sempre naturalmente stiamo parlando di una settimana e non ho fatto domande quindi non è detto che sia una tragedia quello che accadrà questo mi raccomando non mi raccomando tenetelo sempre a mente ecco fatto sta che qui c'è un qualcosa che proprio vi coglie impreparate un qualcosa che verrete a sapere un qualcosa che ad oggi è nascosto non vi è stato rivelato non conoscete ok che verrete a scoprire o che verrete a scoprire io qui ci vedo anche voi bella cara c'è una donna molto carina molto cara molto umile molto semplice molto amica amichevole molto disponibile anche verso verso gli altri qui guardate ve la dico proprio qui ci potrebbe benissimo essere una rivelazione o venire a sapere un qualcosa anche di una nostra amica di una nostra cara cara amica potrebbe essere anche la madre sinceramente potrebbe essere anche la madre la madre l'amica o comunque ecco siccome siamo in generale mettiamola così una donna a noi molto cara una donna a noi molto cara con la quale ahimè potremmo chiudere un rapporto improvvisamente ora non so se noi chiudere il rapporto con lei o lei chiuderlo con noi non so qui non sono molto molto sicura fatto sta che qui c'è un dispiacere c'è un dispiacere c'è un qualcosa che proprio ci farà rivedere ci farà vedere con altri occhi questa persona proprio perché ci ci deluderà purtroppo va bene cos'altro io non so se è legata a questa cosa o se è totalmente un'altra cosa ma questa carta mi dice anche che saremo un po ansioso un po timorose vi vedo vedi con molti dubbi con molte perplessità avremo paura magari di qualcosa qui c'è proprio la paura di perdere qualcosa alla quale noi teniamo molto attenzione perché effettivamente potremmo proprio perdere dei documenti dei documenti dei fogli importanti un qualcosa che non riusciamo più a trovare ecco anche questo è probabile anche questo è molto probabile cos'altro ma io sinceramente questo ci vedo da queste carte qui mi mettono l'accento mi mettono l'accento su questa nostra paura questo nostro timore questa nostra apprensione su su qualcosa e in effetti qui ci vedo una rivelazione un qualcosa che viene alla luce che riguarderà una persona a noi molto cara io credo sia un'amica o la mamma la sorella insomma come dicevo una persona molto vicina a noi alla quale noi teniamo alla quale noi teniamo molto va bene quindi una settimana un po diciamo non totalmente negativa perché voi rimarrete in piedi belle tranquille quindi non vi preoccupate però diciamo una settimana improntata ecco sull'imprevisto sull'imprevisto imprevedibile direi ok allora andiamo a a vedere la risposta della scarpetta vediamo un po la scarpetta che risposta ci ha dato vediamo un po come buttarle giù queste carte guardate com'è questa carta allora vediamo un pochino se allora eccoci qua vediamo ma che settimana ci ci prevedono queste carte allora io vi ve lo dico non non vi vedo molto molto in forma né molto tranquille qui potreste avere proprio delle notti insonni cioè vi vedo proprio magari non dormire molto inquieti ecco stavano una persona è proprio in agonia e un uff non sta bene da nessuna parte e qui potreste essere proprio bloccate bloccate da bloccate da qualche parte sinceramente qui ci vedo proprio il fermo da qualche parte sia fisico e mentale quindi qui insomma il riposo non è dei migliori la mente diciamo non sta non sta benissimo quello che vedo in special modo tutte queste carte mi parlano di passato qui come posso dire siete fermi su qualcosa siete fermi su qualcosa di passato sperate nel ritorno di qualcuno sperate in una situazione o almeno più che sperare qui qui più che speranza ci vedo proprio la nostalgia estruggente proprio la malinconia qui ci manca tremendamente qualcuno e questo ci fa stare tanto tanto male qui c'è la mancanza di una persona che noi sentiamo diciamo in modo particolare in modo magari un pochino più un pochino più marcato questa settimana va bene però io non sono carte belle però io qui ci vedo anche il rivedere il ritorno di qualcuno perché queste carte un po' me lo dicono quindi magari non proprio un ritorno chiaro è cioè non voglio illudervi o crearvi delle false speranze perché le carte non sono positivissime qui mi fanno vedere sicuramente che c'è la nostalgia la mancanza di qualcuno però io in queste carte ci vedo anche un reinizio un ricominciare potrebbe essere anche semplicemente un ricominciare a pensare a qualcuno però dico io se una ricomincia a pensare a qualcuno che ha perso magari perché rivede la persona perché la risente perché dentro di lei o di lui gli si riapre un qualcosa insomma non so se mi spiego fatto sta che questa è una settimana un po' ferma una settimana un po' di fermo dovremo fare delle rinunce rinunciare magari anche a un qualcosa che ci faceva invece piacere fare proprio perché non possiamo non avremo la possibilità di fare e questo ci potrebbe portare a rimuginare a pensare a fantasticare su come stavamo bene un tempo ecco un po' un discorso di questo di questo tipo qui ci vedo proprio la mente la mente ma anche come dicevo una settimana che ci vedrà anche bloccate bloccate proprio fisicamente quindi magari non potremo andare da qualche parte ma siamo fermi fermi da qualche parte contro diciamo così la nostra la nostra volontà mi raccomando come dico sempre ragazze e ragazzi è una settimana non è quindi e le carte potrebbero semplicemente evidenziarmi una due giornate di tutti e sette giorni della settimana quindi non non andiamo a pensare cose troppo brutte anche perché come dico sempre qui siamo in generico in generale comunque una settimana un po' fiacca qui è inutile che ve lo neghi anche se ci sono carte che mi fanno pensare e sperare a un recupero a un reinizio di qualcosa che ci ha dato tanto tanto dolore ok eccoci dulcis in fondo andiamo a vedere la nostra barchetta che cosa che cosa ci predice vediamo un po' allora vediamo come ho fatto per gli altri mettiamole così queste carte no guardate com'è bella anzi facciamo così poi naturalmente ve le leggo tutte sono tutte arte io le amo ma vabbè che ve lo dica fa guardate come sono aspetta le vedete sì allora vediamo un pochino beh questa come avrete intuito è una settimana molto positiva è sì 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 sarei curiosa di sapere che segni di che segno siete perché ci sono delle ci sono delle combinazioni astrali in cielo in questo periodo molto molto favorevoli ad alcuni segni zodiacali comunque vabbè questo è un altro discorso allora dunque qui ve la dico così come va detta io che ci vedo l'arrivo di un amore quindi qui preparatevi non so magari siete in vacanza perché ci vedo anche un viaggio quindi qui magari andrete in vacanza vi sposterete e non so potrebbe anche essere che già avete questo amore se l'amore già l'avete insomma ve lo portate dico io in vacanza o comunque continuerà alla grande va bene mi raccomando qui siamo in generale quindi fate un pochino anche la tara di quello che vi dico adattatelo alla vostra situazione anche se sinceramente io qui ci vedo il nuovo nuovo new new qui c'è una new una new entry qui c'è un nuovo amore ma un amore una passione una passione un fuoco da morire quindi qui bellissimi mi piacciono tanto mi raccomando mazzetto barchetta rosa voglio il riscontro ecco lo pretendo allora dunque va bene a parte gli scherzi dunque anche se non sto scherzando sono seria qui voglio sapere se conoscerete qualcuno allora dunque qui c'è un nuovo amore qui c'è un nuovo amore l'inizio di una storia l'inizio di una storia perché qui ci vedo una storia non ci vedo una una serata e via qui ci vedo proprio una passione forte molto molto bella che è in arrivo cioè proprio alle porte infatti stiamo chiedendo ad una settimana e le carte infatti me lo me lo confermano allora dunque qui magari non lo so alcune di voi alcuni di voi stanno partendo per le vacanze o per un piccolo spostamento dipende non so dove andate insomma magari partite con un cuoricino piccolino così vi vedo insomma magari siete in ansia non siete tranquilli non siete sereni non state molto bene insomma ma state tranquilli che in questa settimana insomma qualcosa accade quindi qui vi vedo proprio c'è un movimento come dicevo c'è uno spostamento c'è un viaggetto e c'è proprio una passione una passione che vivrete passione che a mio avviso può sfociare proprio in un nuovo amore e in una storia stabile ovviamente non è che tutto può succedere in una settimana e diventa stabile però diciamo come si dice oddio la tendenza ok la tendenza sarà quella diciamo parte sotto i migliori auspici non so come dire ok quindi qui è questo ci vedo cos'altro qui ci sono quindi oltre a questo bellissime oltre a questo ci sono notizie naturalmente notizie quindi se aspettate risposte anche di lavoro voglio dire io piuttosto che d'amore piuttosto che di altro tipo queste arriveranno perché ci sono proprio novità novità notizie eccetera eccetera cos'altro cos'altro quindi vi vedo molto stabili molto tranquilli qui c'è gioia c'è tranquillità e questa passione io vedo sta passione la vedo dappertutto quindi qui ecco di questo mi stanno parlando le carte lo spostamento l'abbiamo visto le notizie pure qui c'è qui ci vedo anche la salute io ci sto lontana come la peste non ne voglio sapere e però qui ci potrebbe anche essere una diagnosi è quindi qui potrebbe esserci anche una una diagnosi di di salute quindi una visita una diagnosi che vi potrebbe arrivare che magari aspettavate non so io insomma anche di questo parlano le carte va bene comunque veramente molto molto in generale una settimana veramente veramente positiva molto emotiva molto emotiva e molto felice sotto molti sotto molti aspetti quindi fatemi sapere mi raccomando va bene e quindi cari amici cari amiche di penelope e le sue carte io vi ringrazio come sempre mi raccomando iscrivetevi al canale facciamolo crescere sempre sempre di più io vi ringrazio naturalmente per l'attenzione ma anche per il vostro affetto oceanico che è contraccambiato ma lo sapete vi abbraccio quindi vi bacio e noi ci rivediamo gioia amore naturalmente ad ognuno di voi e noi ci rivediamo al prossimo video ciao alla prossima